La sua impressione, diciamo, sembrava una partita che a un certo punto il palo aveva in mano, potevamo chiuderla, forse dopo c'è stato quell'episodio anche abbastanza discutibile su Babacar, dopo arrivato quel paletto, alla fine è stato un punto che potevano essere tre. Ma noi giocheremo sempre per fare i tre punti, intanto la cosa buona di stasera è che la squadra voleva fare un passo avanti e secondo me ne ha fatti due, visto le prestazioni precedenti. Oggi, nell'isperiatorio a fine gara, i miei ragazzi gli hanno detto che stiamo nascendo e stasera, secondo me, la squadra ha proprio fatto quello che ha voglia di fare in un futuro e ci vuole un pizzico di tempo e stasera ha dimostrato di provare a giocare da squadra vera senza mai disunirsi, rispettando quello che è l'equilibrio di una squadra, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ho visto tanta disponibilità nei ragazzi, che è una cosa difficile da trovare. Io invece l'ho vista e mi fa molto piacere perché è quella che mi fa sperare, è quella che darà forza a questa squadra. Poi peccato per il risultato, però io credo che la partita l'avete vista tutti, diciamo puniti da un episodio, oltretutto abbiamo commesso un fallo proprio lì in quella zona che sapevamo che loro erano molto pericolosi e poi magari da una svista, anche forse come tutti noi siamo all'inizio del campionato, magari quella svista avrebbe portato magari tre punti, però io sono soddisfatto perché mi ha fatto, l'ho chiesto ai ragazzi di fare un passo avanti e ne ha fatti sicuramente due e questo vuol dire che c'è lo spirito giusto.